Sono ovunque! Beh, chi? I nostri generi sono sempre tra i piedi. Ti ricordo che sei stato tu a farli rimanere qui. Sì, ma mi sento soffocare. Claude, giusto lei cercava? Un'altra volta sono molto in ritardo, mi stanno aspettando. Oh, Charles, come stai? Bene, e lei? Sono in ritardo. Ah, non prendo impegni il 17 giugno. Che succede il 17 giugno? Interpreterò Gesù. Ma Gesù non era... Buongiorno, Claude. Le offro un caffè? Eh, no. Buongiorno, Claude, a stasera! Perché? Cosa c'è stasera? Aspettiamo lo shabbat a casa nostra. L'abbiamo fatto venerdì scorso! Ah, ma tutti i venerdì? I coffee stanno arrivando. No. E quando se ne vanno? Oh, sono stati vaghi. Hanno detto per un periodo indefinito. Non sono stati affatto vaghi. Merda, non hai capito? Questi immigrano, immigrano! Sono carini i nostri genitori. Da quanti anni sono sposati? È presto detto. 40 anni il 18 giugno. È l'occasione per riunire le famiglie al completo. In che senso al completo? Con i vostri genitori. Mio padre è impossibile, non dopo la cena di Pechino. Ho appena parlato con i miei, li aspettano da più di un'ora. Il tuo simpatico papà è qui, ti dico. Chi sono quelli? Non li conosco. Credo che abbiamo sbagliato cinesi. Mancano dieci minuti! Sospensione! Che colpo! Che altro succede? I cinesi hanno preso la nostra camera! Abbiamo segnato le stanze a sorte e tu e la mamma dormirete nella yurta. Che cosa? Carino, no? Piccola quell'arancia. Assaggiala, viene da Giaffa. È chiaro che non conosci quelle algerine. Shalom. Shalom aleikum. Go! Hanno tutti un problema. Stiamo ospitando un bel gruppo di squilibrati. È un manicomio di là. Posso assaggiare la salsa? Ti sei guardato? Sei grasso come un facocero. Ho sposato una sadica. Che cosa abbiamo fatto al buon Dio, Claude? Non lo so. Come dite da queste parti, a ognuno il suo cetriolo.